Buongiorno amici, mi chiamo Debora e questo è un canale di Alta Sartoria Italiana. Oggi proseguiamo con il nostro pantalone di Alta Sartoria e vedremo nello specifico come tagliare il rivestimento della finta destra, nel caso del pantalone da uomo o sinistra, nel caso del pantalone da donna, e come attaccarla, cucirla, nel caso voi prevediate la lampo o meno. Ok? Iniziamo immediatamente. Allora, cominciamo col vedere come tagliare il rivestimento che poi appliceremo da questo lato qui. Prendete la mussola che vi è avanzata quando avete tagliato i pezzi delle tasche, per esempio, insomma i primi pezzi, quelli del video precedente sul taglio delle mussole. Allora, posizionate la vostra finta rivestita in un punto tale che abbia un po' di margine sopra, e almeno sei o sette sotto, ok? E un paio di centimetri dalla punta, ok? Quello è il minimo. Poi ovviamente se ne avete in abbondanza, metterla anche più comoda. Bene, adesso facciamo così. Su tutta la parte superiore andiamo a segnare 6-7 mm, tutto attorno, ok? Anche qui, più o meno fino alla curva, fino a dove comincia a curvare. Ok? Bene. Oltre questa linea andiamo di due centimetri, ok? Così. E seguiamo la forma della punta. E scendiamo giù di 6-7 cm rispetto a questo segno, ok? Sono circa 6-7, giusto? Ecco, sono giusto 6, qua. Qui andate invece dritti. Potete scendere anche un pochino più giù, eh? Un po' più sotto rispetto alla curva. Ovviamente se la fate qui o qui giù è uguale, nel senso che non è così strettamente necessario essere precisi al millimetro, perché poi andremo a rifilarla all'occorrenza quando andiamo a rifinire il cavallo. Fate così, questa è sbagliata, ok? Nel mio caso, che ho scelto di scendere un po' più giù con la curva. E adesso andate a tagliare lungo la sagoma che avete appena realizzato con il gesso, ok? E la mettete via per il momento. Quindi tagliate lungo questa sagoma qui, va bene? E adesso andiamo a posizionarla sul pantalone. Prendete la parte destra del pantalone, se è un pantalone da uomo, oppure la sinistra del davanti, eh? Se è, nella sinistra, se è una bottonatura da donna, ok? Adesso prendiamo in esame il caso del taglio netto e vi spiegherò anche nel caso di punti lenti. Iniziamo col taglio netto. Allora, questa riga che ho fatto equivale ai punti lenti della vita, ok? Più un rimesso che qui un po' corto, va bene? Che facciamo? Andiamo a mettere, vi ricordate che noi avevamo rifilato la tela e avevamo chiuso fin qui? Però questa parte deve rimanere non chiusa. Che facciamo? Andiamo a mettere il filo del tessuto sul filo dei punti lenti, quindi non quassù e non qua giù, ma così. Quindi attenzione a non mettere la tela quassù, dovete mettere la stoffa, ok? Oltretutto, fate attenzione, adesso giro il lavoro così potete vederlo meglio, andate a posizionare, andate a posizionare lungo questa linea, però fate attenzione perché la tela vi può ingannare, nel senso che se voi mettete la tela a filo bene, potrebbe essere che magari non è perfettamente corrispondente, anche come in questo caso, vedete, si è un po' spostata, non corrisponde perfettamente alla stoffa, quindi quando io vado a posizionare lungo questa linea, lungo il taglio del cavallo, devo fare attenzione che non sia la tela a seguire la linea del taglio del cavallo, ma sia la stoffa sotto, ok? Così, riuscite a vederlo? La stoffa sotto deve coincidere con il filo del cavallo, ok? Dopodiché metto degli spilli e vado ad imbastire a circa 0,7-0,8, ma in ogni caso avrete un riferimento, dopo ve lo mostro, per cucire con la macchina da cucire in maniera precisa, quindi se fate a 0,7-0,8 o a massimo un centimetro è uguale, fate un'imbastitura che regga bene questo profilo, ok? Adesso lo faccio anch'io così ve lo mostro. Un'altra cosa, fin dove devo arrivare, non devo imbastire fino a giù, devo dalla punta del cavallo salire di circa 4,5 cm, dico circa perché non li vado a misurare sulla curva, ma li misuro così, dritti, ok? 4,5 cm perché la bottonatura da uomo ha bisogno di un'ampia apertura, la donna potete salire anche a 5-5,5 cm, però 4,5 cm dalla punta del cavallo, quindi io imbastirò da questo punto qua, da questo punto qua, fin su, se siete destri, io che sono mancini inizierò a qui sopra, quindi ho un limite di 4,5 cm dalla punta, e devo stare attenta a mantenere a filo il tessuto, e qui devo coincidere, devo far coincidere il filo del rimesso, il mio centimetro di rimesso con i punti lenti, ed imbastisco, ok? Così, controllo sotto man mano che procedo, controllo che sia a filo. Per quale ragione devo stare attenta a stare a filo con il tessuto? Perché se il tessuto sta dietro, è quella la parte utile che regge, se io poi vado a piegare e il mio tessuto è molto discostato, immaginate che sia così, no? Che sia addirittura 4-5 mm arretrato, no? Succede che quando vado a cucire, io avrò, soltanto prenderò la finta, prenderò questa parte, questa parte qui, la prenderò troppo in pizzo, troppo sul bordo, e vuol dire che avrò soltanto 3 mm di rimesso interno che potrebbe sfilacciarsi o comunque potrebbe staccarsi e sarebbe veramente una cosa non troppo bella, ok? Arrivo fin qua e mi fermo. Questo è il modo in cui io imbastisco se non ho la lampo. Adesso vi mostro come fare con la lampo. Allora, adesso vediamo invece con la lampo. Il limite è sempre questo, sempre 4-5 mm, e l'altro riferimento sono sempre i punti lenti. Prendo la mia lampo, che mi raccomando, deve essere più lunga, questa parte qui, questa di fermatura finale della lampo, deve scendere sotto questa linea, anche di poco, ma deve scendere. In questo caso questa lampo è molto lunga, la taglierò oppure sposterò con delle pinze più su questa parte. Comunque non vedremo più là se deciderò di tenere questa lampo qui. Apritela per comodità e mettetela all'ingiù, cioè con il cursore, questo, sotto. Non sopra, ma sotto, perché nel momento in cui io andrò poi a posizionare il tutto, verrà rigirata così. Bene. Che faccio? Devo fare attenzione anche a quest'altra linguetta di metallo. Qui andrà cucita, a un centimetro, sotto la linea dei punti lenti, andrà cucita la mia lampo. Abbiamo già visto come si imbastisce, nel caso della prima prova, e sarà quella la stessa posizione che andrà a prendere quando la cuciremo. Quindi devo stare attenta che questa parte di chiusura sia sotto il centimetro di cucitura. Quindi se la cucitura sta qua, questo metallo deve stare sotto questa linea. Abbondate, quindi non mettetela a filo un centimetro, fate almeno un centimetro e mezzo, perché potrebbe finirci l'ago quando andate a cucire. Come fate? Mettete a filo la lampo. Allora, molti cuciono questa e questa insieme. Io previsco di no per una ragione molto semplice, perché, vabbè, ve la mostro dopo, adesso è difficile spiegare la parola. Allora, mettete a filo e fate un'imbastitura singola della lampo ad un paio di millimetri, altrimenti quando andrete a cucire non riuscirete più a togliere il filo per imbastire. Quindi a due, anche tre millimetri, eh? Andate ad imbastire la vostra lampo lungo il taglionetto, fino qui, ok? Nel momento in cui arrivo qui, che comincia la curva, forzo un pochino e accosto la lampo alla curva. Adesso prendo di nuovo la mia finta e la vado a posizionare come nel caso precedente, ovvero nel caso precedente in cui non era prevista la lampo, la bottonatura, la patta con i bottoni. Vado a mettere di nuovo a filo e, se stanno sempre attenti al tessuto di sotto che sia perfettamente combaciante col profilo del vostro cavallo, andiamo ad imbastire. Sollevate man mano che imbastite e rimbastite di nuovo da sopra, quindi prendendo anche il tessuto, eh, mi raccomando, fino al nostro segno, ok? E adesso vi mostro, dopo aver fatto questa imbastitura, vi mostro perché ci tengo a imbastire separatamente la lampa. Allora, il motivo per cui si fa la doppia imbastitura, o meglio, io faccio la doppia imbastitura, perché sono un po' malata di imprecisione e, se io mettessi e imbastissi insieme lampo e finta, potrebbe spostarsi la lampo anche di pochi millimetri mentre sto imbastendo e poi cucendo. Vuol dire che se si sposta di pochi millimetri, questa distanza da qua a qua non sarà uniforme e io una cosa che non sopporto è l'imprecisione, quindi se qui dovesse esserci questa distanza e qui quest'altra, io impazzirei, cioè non lo sopporterei, dovrei rifare da capo. Ho deciso, per questa ragione, di imbastirle separatamente, perché sul bordo, perché nel momento in cui andrò a fare la cucitura, potrebbe risultarmi l'imbastitura sotto la cucitura e fare una fatica enorme. a eliminarla, quindi imbastisco sul bordo la mia lampo, avrò precisione qui e avrò la semplicità di rimozione del filo per imbastire. Quando andate a cucire, usate il piedino della macchina da cucire per le lampo, perché anche se cucendo da questo lato, avrete il fastidio della lampo sotto, ok? Quindi, cucirete a 0,7, 0,9, a seconda, insomma, di come, di come avete deciso, 2 mm non cambiano la modellistica, cucite lungo il bordo, sempre partendo dai nostri 4,5, che qui, anche se non ho disegnato, è immediato, parte dall'imbastitura, fino a sopra, ok? Questa cucitura, fatta in questo modo, sia nel caso della lampo, e sia senza. Adesso vi spiego, nel caso voi abbiate i punti lenti, cosa dovete fare, ok? Allora, con la modellistica che utilizzo io da donna, ci saranno i punti lenti, ok? Perché la modellistica che utilizzo io per i pantaloni della donna sono diversi da quelli da uomo, anche se difficilmente qualcuno di voi la conoscerà, conoscerà quel tipo di modellistica, che succede? Succede che, nel caso della mia modellistica, con la presenza di punti lenti, io andrò in appoggio, come ho fatto sul fianco, anche con la finta, quindi farò tutto ciò che abbiamo visto qui adesso, mettendo la finta in appoggio. Qui, essendo quei punti lenti, sarà da donna, quindi potrò salire più su di 4,5, potrò fare 5, 5,5 massimo, e lavorare nello stesso modo, nel caso io abbia, o la lampo, o senza, utilizzerò questa linea di punti lenti, come se fosse il taglionetto, ma se avete una modellistica, che non prevede, che è diversa da mia, voi avrete lo stesso, i punti lenti qui, che farete probabilmente, la vostra cuscitura, la vostra, anche la prima prova che avete fatto, avete piegato sui punti lenti, quindi voi farete in modo, che la nostra finta, vada sempre in appoggio, sempre in appoggio qui, perché la cinta, anche se avete un'altra modellistica, la applicherete in questo modo, la applicherete, un centimetro sotto i punti lenti, e il filo della finta, andrà sempre sui punti lenti, ok? Però, anziché andare in appoggio, rispetto ai punti lenti del cavallo, andrò oltre, adesso oltre, significa che non avete un riferimento, su cui appoggiare, ma non fa niente, perché l'importante sarà, essere abbastanza oltre, perché poi io andrò a cucire, sui miei punti lenti, sul retro, e la parte che avanza, se è troppo alla rifilo, state attenti a non sporgere, troppo poco dai vostri punti lenti, sporgete abbastanza, e poi tagliere, rifilerete la parte eccedente, se siete usciti troppo, rispetto ai punti lenti, questo vale per la finta, e non potendo tagliare, la nostra, la nostra, lampo, e rischiando di essere, ancora più imprecisi, rispetto al, a quello che vi ho spiegato, prima io che la faccio, la imbastisco separatamente, in questo caso, è ancora più facile, essere imprecisi, quindi che faccio, dovrò fare in modo, che la mia imbastitura, sia sempre sul bordo, ma la cucitura, come anche nel caso precedente, deve rientrare, quindi deve coincidere, con questa linea qui, come faccio, non avendo un riferimento, è difficile, far capitare, la cucitura esattamente, sui punti lenti, Quindi, vado a rifilare, il mio, vado a rifilare, il rimesso, il bordino, il margine, alla misura, a 0,8, 0,7, a seconda, di quanto voglio, rientrare, nella, nella, nella lampo, la metterò sempre, allo stesso modo, e andrò, poi, dopo averla rifilata, a posizionarla, semplicemente a filo, e saprò, che la mia cucitura, combacerà, con, quando andrò a cucire, sui miei punti lenti, sul retro, la mia cucitura, sarà esattamente, nella distanza, prestabilita, dal bordo, quindi, rifilo, il margine, il rimesso, lo utilizzo, come, riferimento, per la lampo, quindi, non per la cucitura, ma per la lampo, e, con gli stessi criteri, con cui ho messo, la lampo, in appoggio, vado, sempre mantenendo, la distanza, a un centimetro e mezzo, dai punti lenti, sempre, a quattro e mezzo, in questo caso, anche cinque, cinque e mezzo, dal fondo, vado, ad appoggiare, il bordo, sul mio rimesso, e lo imbastisco, a due, tre millimetri, in modo, che quando andrò, poi a cucire, la mia cucitura, sarà sui punti lenti, e questi punti lenti, stanno, a una distanza, sufficiente, per eliminare, la mia imbastitura, sul bordo, non so se sono stata chiara, quindi, rifilo, appoggio la lampo, sulla parte rifilata, imbastisco, a due, tre millimetri, e procedo, come vi mostro adesso, adesso, e poi appoggiate questa, in maniera, tra virgolette, sommaria, cioè senza, guardare, troppo, quanto sporge, basta che non sia troppo poco, e poi andate a cucire, nello stesso identico modo, ok? Credo, che, che per oggi, non ci sia null'altro da aggiungere, abbiamo terminato. Bene, alla fine della lezione, se vi è piaciuto il video, mettete un like, commentate, se avete dei dubbi, chiedete pure, e per invece, la prossima settimana, ci vediamo venerdì e domenica, venerdì vedremo la rubrica, la serie di video, su metti e tessuti, e domenica proseguiremo, con il nostro pantalone, di alta sartoria, vi saluto, arrivederci. e domenica proseguiremo, e domenica proseguiremo, e domenica proseguiremo, Grazie a tutti.